Allora Andrea Greco, intanto magari aspettiamo prima di parlare di voto anticipato, anche perché per l'appunto il minimo sarebbe fare una legge elettorale decente, quando Salvini dice Di Maio non vuole il governo insieme a voi, ai 5 Stelle, oppure forse hai in tasca già un accordo col Partito Democratico, avete in tasca un accordo col PD e chi può sbloccare questa situazione di stallo? Guardi, io penso che la situazione di stallo può sbloccarla semplicemente il buonsenso, rimettiamo al centro i temi, i cittadini italiani in questo momento hanno un assoluto bisogno di vedere la politica che affronta i temi, che affronta i problemi che hanno e vuole finalmente delle soluzioni, e quindi mettiamo al centro un contratto di governo sul modello tedesco, lei sicuramente lo conoscerà molto meglio di me, e dobbiamo assolutamente darci delle priorità in questo senso, dare delle priorità al Paese e portare avanti quelle priorità, dobbiamo pensare che abbiamo bisogno delle politiche per la famiglia, delle politiche di aiuto, di sostegno ai piccoli imprenditori, abbiamo bisogno di più sicurezza sul territorio e di un reddito di cittadinanza, oltre che alla lotta alla corruzione. Chi vorrà lavorare insieme a noi è sicuramente... Ecco, ma lei questa linea più moderata di compromesso fa fatica ad accettarla oppure la ha uspicata sempre? Intanto ringrazio il signor Farinetti per lo splendido sponsor al Molise, che ne abbiamo tanto bisogno, ne abbiamo un disperato bisogno. Io credo che bisogna, come sempre, mettere al centro l'interesse delle persone, dei cittadini che ormai guardano la politica con grandissimo interesse, con tanto entusiasmo, perché? Perché hanno dato un segnale di cambiamento il 4 marzo, quindi si aspettano delle soluzioni. Possiamo farlo? Abbiamo dato l'incarico al professor Giacinto della Cananea per vedere quali possono essere i punti di convergenza tra i tre programmi delle tre maggiori forze politiche presenti attualmente sul territorio. Questo è un fatto importante. È molto importante, lo volevo chiedere già prima, ho bisogno però adesso di saperlo. Lei prima votava a destra o a sinistra? Guardi, pensi che io ho fatto, mi sono laureato con una tesi in storia delle dottrine politiche e il titolo della tesi era socialismo liberale su uno scritto di Rosselli, per cui io ero post ideologico, io ero post ideologico già prima del Movimento 5 Stelle. No, guardi, io le dico la verità, prima del Movimento 5 Stelle non votavo, perché ero affassionato talmente tanto dalla politica che credevo che nessuna delle forze in campo mi rappresenta. C'è un'indagine molto sé. Quale pressaggio, quale slogan lei pensa di vincere le elezioni nel Molise? Guardi, sinceramente anche in Molise stiamo facendo lo stesso discorso che è stato fatto sul nazionale, ovvero mettiamo al centro i temi sanità pubblica e di qualità, politiche sul lavoro, politiche sulla famiglia e la riforma di tutto il sistema delle nomine di cui faceva prima menzione il professor Cacciari. Quindi questi sono i grandi temi che dobbiamo affrontare in Molise, perché anche i molisani, esattamente come gli italiani, hanno bisogno che vengano risolti dei problemi. Ecco, ma il bene del Molise greco, però voi rischiate di ritrovarvi in mezzo Italia dalla vostra parte, perché essendo i vincitori di queste elezioni poi tutti saltano sul vostro carro, non teme un po' questo fenomeno di trasformismo da un'altra parte? Guardi, innanzitutto intendo dire una cosa, che noi abbiamo sempre messo al centro il buonsenso, quando c'era da votare dei provvedimenti anche del Partito Democratico l'abbiamo fatto in passato, penso alla legge sul Wister Blowing, piuttosto che quella sugli ecoreati, così come abbiamo apprezzato alcune politiche del Ministro Miniti. Quindi è chiaro che qui però non stiamo parlando di dover salvare il Partito Democratico piuttosto che la Lega, dobbiamo mettere al centro le persone, ricordiamocelo sempre, vengo da una terra che negli ultimi tre anni ha perso 3.000 residenti, ha perso 3.000 giovanimenti. Quindi dobbiamo assolutamente invertire la rotta, io sono d'accordo sul fatto che bisogna lavorare per l'interesse del Paese e questa naturale evoluzione del Movimento, mi permetta di dirlo, guardi, sono in disaccordo sul cambio di strategia rispetto al prima della campagna elettorale. Mi permetta, scusi, dicevamo delle cose prima della campagna elettorale, sono le stesse che diciamo ora, reddito di cittadinanza, lotta alla corruzione, politica per le famiglie, politica per le imprese, sono le stesse cose che dicevamo prima della campagna elettorale, le diciamo esattamente ora allo stesso modo. Ma insomma avete cambiato poi invece idea su altre questioni, sull'Europa per esempio. Ma è chiaro che, guardi, quando si va al tavolo della trattativa è chiaro che bisogna mediare tra le parti, bisogna mediare tra le parti, ma questo non significa non fare gli interessi dei cittadini italiani. Greco, in bocca al lupo, lei è candidato dei 5 Stelle alla presenza del Molise.